Gestione del Verde Pubblico, Assessore siamo nel Parco di Galleria Repubblica che sarà presto interessato da quali lavori? Sì, inizieremo con il rifacimento totale compreso di scarichi del laghetto qui presente. Era necessario perché ormai era ingestibile la situazione anche dal punto di vista igienico-sanitario con gli animali e soprattutto le papere che avevamo all'interno di tale struttura. Rifacciamo completamente il laghetto, la recinzione che interessa e come dicevo anche gli scarichi. Questo per quanto riguarda la prima parte dei lavori. Secondariamente con il ribasso abbiamo avuto un importante ribasso d'asta di circa 15.000 euro. Stiamo pensando il rifacimento totale anche dell'aria cani che anche questo sta dando ormai logro con il passare degli anni a necessità di essere ristrutturato completamente. A proposito di questi lavori, come voi vedete abbiamo dovuto spostare gli animali in un altro sito. e questo volevo dirlo e mi preme dirlo, ringraziare l'agriturismo Archelao da parte di tutta l'amministrazione comunale che ci ha dato la disponibilità a mantenere questi animali nella sua struttura fino all'ultima azione dei lavori.